O Dio, Padre del Signore nostro Gesù, Padre di misericordia e del Dio di ogni consulazione, muoviti nel mondo dei cieli e poi ricostruando su tutte le creature che le conosci dall'uomo perché esistono. Con la parola di salvezza, pregando norme di vita nella tua Chiesa, tu una vicinia, hai eletto ormai, tu hai fatto il denuncio, hai costituito canti e sacerdoti per non lasciare mai senza ministero il tuo santuario e fin dall'origine del mondo hai pronto a essere glorificato in coloro che nasce. E fondi ora sopra questo eletto la potenza che viene da te, oh Padre, il tuo spirito che regge il tuo santuario, tu lo hai dato al tuo diretto figlio Gesù, e dedilo a uno spesso ai santi e apostoli che nelle diverse parti della terra hanno fondato a Chiesa come tuo santuario, a gloria e gloria che vede nel tuo mondo. O Padre, che conosci i segreti del cuore, concedi a questo tuo servo da te, e letto all'inizio, di fatto, di Pascio di unico stranico regge e di compiere il modo che dovrebbe essere la visione del suo postagionato. Egli ti serve la mattina di giorno, per vedrete riservare tuoi proizie, e per offerti di dodi e della tua Sania Cristo. Con la forza dello spirito del suo posto giurdozzo, ammettere di mettere i piedi a secondo il primo mandato, disposte di essere gradiati a secondo la tua volontà. Sciogliano di Dio, con l'autorità che è nato anche a posto. Per Damasco e Dio, con gran prezza di cuore, si è offentato a Dio, per Cristo Dio, per Damasco e Dio, con gran prezza di cuore, si è offentato a Dio, per Cristo Dio, con lo Spirito Santo, nella Santa Chiesa, ora e nei secoli e nei secoli. Grazie a tutti.